MENTERNAT, CORPOTADO AY! BROTTO, DOVOLA, DAVISI VIVO! BROTTO, DOVOLA, DAVISI VIVO! VIVO, DOVOLA, DAVISI VIVO! PANTALONE! BROTTO, BROTTO! Il dottore! Buongiorno, signor Pantalone. Buongiorno, signor Pantalone. Papà! Buongiorno, signori. Come sta, signor Pantalone? Come sta, signor Pantalone? Sto male. Sto malissimo. Ho mal di testa. Ho mal di testa perché non praticano il volto. Ho mal di testa. Ho mal di testa perché non praticano il volto. Ho mal di testa. Ho mal di testa. Ho mal di testa perché non praticano il volto. Ho mal di testa. Ho mal di testa. Ho mal di testa. Grazie a tutti.